L'ascolto della parola di Dio diviene sempre un passaggio dalle tenebre alla luce. Oggi emerge la necessità di una maggiore catechesi che con più comodità si può attuare la domenica. Durante il rito equaristico Dio parla come con la sua parola. Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé. Il valore pasquale del memoriale equaristico. La comunità di Israele ogni anno viveva nella cena pasquale il sacrificio in onore di Yahweh come azione di grazia e segno di fraternità. Il rito celebrato con costanza e fede dagli ebrei era una profezia della nuova Pasqua compiutasi storicamente con la morte e glorificazione di Cristo e che la Chiesa attua nel celebrare nella Messa secondo i comandi di Cristo stesso. Fate questo in memoria di me. Di fatti quando noi riuniti insieme manciamo la carne del Signore e beviamo il suo sangue e celebriamo la Pasqua e possiamo cioè passiamo cioè dalla morte alla vita diventiamo ciò che siamo chiamati ad essere il corpo mistico di Cristo, popolo incamminato in un passaggio di liberazione da ogni schiavitù. La partecipazione alla liturgia equaristica domenicale non è tanto un precetto della Chiesa, sia ben chiaro questo, non è tanto un precetto della Chiesa quando una chiamata di Cristo ad essere suo corpo vivente. Una ragione che giustifiche qualche assenza della Messa non può determinare una dispensa prolungata o generalizzata, anzi è opportune riprendere subito dopo la forzata motivazione la frequenza alla Messa per non cadere nel cancro dell'abitudine. Ogni fedele dovrebbe considerare la partecipazione alla Messa non solo un dovere primario ma anche un diritto, un bisogno, una fortuna. Chi non potesse partecipare alla Messa tutte le domeniche è opportuno che vi prenda parte in qualche giorno della settimana, per quanto non sia obbligatorio a chi arriva deliberatamente troppo tardi alla Messa e non si mette in uno stato interiore di attenzione e di raccoglimento, è bene ricordare un pensiero di Paolo VI. Chi ha la coscienza del contenuto della funzione di questo precetto dovrebbe considerarlo non solo un dovere primario, ma altri sì un diritto, un bisogno, un onore, una fortuna, come già ho detto in precedenza. Tutti conosciamo come Padre Pio fosse esigente circa la partecipazione alla Santa Messa nella giornata di domenica e nelle feste di precetto. Ogni festa era importante e bisognava viverla nella sua pienezza perché anticipazione della festa del cielo soleva dire chi ci vuole fumo incenso in chiesa è il fumo in cucina per fare festa. Abbiamo in questa semplice espressione popolare il concetto di fare festa con ti e con la famiglia. La lettera che riportiamo parla della Pasqua di cui prende corpo ogni festività cristiana. Non possiamo leggere tutta intera la lettera, prendo solo qualche punto molto bello. Quindi voglio sperare, la lettera è interessata ai genitori di Padre Pio, quindi voglio sperare che voi non sarete di quei cristiani i quali fanno consistere tutta la Pasqua nel piacere puramente sessuale perché questo è affatto contrario allo spirito e alla legge di Gesù Cristo, ma piuttosto vi esorte di avanzarvi sempre più nella vita di Dio, ricordando che presto o tardi dobbiamo presentarci al Tribunale di Dio. A questo fine dunque vi esorto a non tralasciare il precetto pasquale, unico mezzo per la nostra salute, siate perciò pregate di farmi sapere di che cosa abbia soddisfatto al precetto pasquale vostro figlio Padre Pio.